Bentornati ragazzi stasera oggi si gioca Italia Spagna Italia Spagna vale la finale dell'europeo cominciamo con la formazione dell'Italia che gioca con donna 433 solito con donna Roma in porta Emerson a sostituire Spinazzola la coppia centrale è Bonucci e Chiellini con oltre 217 presenze nazionali in due Florenzi dall'altra parte torna Florenzi dal lungo acciacco centrocampo con barella Giorginio Verratti e tridente d'attacco con chiesa immobile e insignia e passiamo ora alla Spagna perché la Spagna gioca anche lei con un 433 in porta Unai Simone a Spilliqueta come terzino la porta Pau Torres e i centrali di difesa Giordi Alba dall'altra parte quindi molta esperienza sulle fasce centrocampo a tre con Coque Busquets e Pedri è un misto di di vecchio e di nuovo perché Busquets ha più di 120 presenze in nazionale Pedri ha solo 18 anni cioè insomma ha già 9 presenze quindi ha un bel miscuglio e in attacco un tridente d'attacco composto da Ferran Torres, Murata e Dani Olmo dobbiamo stare molto attenti a Dani Olmo e ovviamente a Murata perché conosce bene il nostro nostro calcio il nostro campionato detto questo forza azzurri ragazzi forza azzurri andiamo a prenderci la finale di Wembley ciao a tutti Wembley ciao a tutti Wembley ciao a tutti